Continuano gli ospiti nel nostro studio, ora parliamo di calcio e soprattutto di calcio a 5 non vedenti. È venuto a trovarci un allenatore di questa disciplina, Maurizio Bognoli. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, sicuramente è uno sport che molti non conoscono o perlomeno conoscono l'esistenza, ma non sanno che ci sono delle regole diverse, a partire dal pallone. Tu ci hai portato proprio uno di questi palloni che si usano in questo sport. Quali sono le differenze del pallone che usano in questa disciplina? Facciamolo vedere anche. Sì, esatto. La ragione principale di questo pallone è che è adatto per i ragazzi non vedenti. Chiaramente questi ragazzi devono agire e giocare con rumore. Di conseguenza la palla, che è l'organo principale del gioco del calcio, è una palla particolare che ha dentro dei sonagli che permettono, una volta che c'è l'impatto e col giocatore avversario e anche con le sponde i ragazzi riescono a focalizzare, sapere dov'è esattamente il pallone e da lì partono e giocano a calcio. vi posso garantire nel modo più assoluto come se fossero ragazzi vedenti, come sono i vedenti del calcio dei normodotati. E tra l'altro hai già detto un'altra caratteristica peculiare, ci sono le barriere, quindi proprio per limitare il campo. Il campo è una misura basilare sui 40 metri per 20, come potete vedere dal filmato, ci sono le sponde laterali in modo che il pallone è sempre in gioco e oltre che essere sempre in gioco, una volta che il pallone viene calciato o su una azione da gioco o su una punizione, rimbalza sul legno, il giocatore riesce, ripeto, a capire dove si trova la palla e da lì riesce a raccontrollarla e da lì nasce l'azione vera e propria del gioco del calcio che come il tiro in porta, come avete visto in questo momento, un ragazzo della Liguria Calcio ha fatto gol. Qui eravamo a Sanremo, mi pare di capire che fosse la semifinale della Coppa Italia che abbiamo disputato l'anno scorso. Ecco, hai già rivelato una cosa, tu adesso alleni la Liguria ma sei cremonese, hai comunque un'esperienza anche con gli azzurri del calcio 5 non vedenti. Sì, tutto è nato 6 o 7 anni fa grazie a un ragazzo di Crema, Davide Cantoni, che è un ragazzo eccezionale che ha avuto la brillante idea di voler creare una squadra propria, si è rivolto naturalmente alla società del Crema, mi hanno interpellato, io a tutt'oggi non ho ancora capito come abbia potuto accettare perché era un mondo che addirittura io proprio non capivo, non sapevo dell'esistenza. È stata una grande intuizione, sono stato fortunato, ho avuto a disposizione subito dei ragazzi incredibili che nei primi tre anni, prima del Covid, siamo sempre riusciti, grazie a loro, a vincere il campionato Coppa Italia abbiamo vinto sempre tutto quello che c'era da vincere. Poi, grazie ripeto a loro, alla loro capacità, sono stato chiamato in nazionale, ho fatto due anni con la nazionale italiana, purtroppo, purtroppo devo dirlo, è stato il periodo del Covid, 20, 21, 22, lì non abbiamo potuto praticamente fare nulla, poi le cose come succede spesso nel calcio sono cambiate, ma grazie alle conoscenze, alle frequentazioni di questi anni sono stato chiamato dal Parma e stiamo cercando di allestire anche noi lì a Parma al campus universitario una squadra non ci siamo ancora riusciti come numero per poter partecipare a un campionato vero e proprio e nel frattempo io e qualche ragazzo già in grado di poter giocare ci siamo affiliati al Sanremo Calcio e con loro facciamo i vari campionati italiani che ci sono in atto e in più, grazie alle grandi organizzazioni che hanno loro, riusciamo anche ad andare all'estero, siamo stati in Germania, in Romania, in Belgio e adesso siamo in attesa del programma nuovo del 2024. È bello però sentire che comunque c'è, oltre al bisogno, la voglia di costruire qualcosa per questo sport che è giusto che prenda anche sempre più numeri. Ripeto, è stato un colpo di fortuna incredibile che mi è capitato perché, ripeto e torno a ripetere che io non sapevo neanche dell'esistenza di questo mondo, è un mondo incredibile, bisogna solo esserci dentro per capire cosa vuol dire, tanti mi chiedono come fanno, come non fanno e io continuo a do qualche accenno ma ripeto alla fin fine del discorso che bisogna solo essere inseriti nell'ambiente per poter capire cosa fanno. Questi ragazzi hanno delle caratteristiche incredibili, è l'unica parola che posso dire qualcosa di incredibile, danno tantissimo, hanno un accarico, un entusiasmo incredibile, ripeto, torno a dire. Noi non possiamo comunque fare un accenno, non fare un accenno che tu stai ancora allenando, alleni i giovanissimi del Castelverde, giusto? Sì, più che giovanissimi che è una categoria di una certa età e già anche la parola in termini allenare non è proprio appropriato. Posso dire che, vedete che sono appena arrivato con la tuta del Castelverde e grazie al Presidente Arcari che sono già tre anni che mi sopporta, io intendo fare quello che sto facendo proprio divertirmi, farli divertire perché hanno un'età talmente bassa, sono dai 5 ai 6 anni e potete capire che a 5 ai 6 anni per qualcuno il calcio è già qualcosa, per altri è un puro divertimento e io anche lì mi posso garantire che mi diverto un sacco perché mediamente sono circa 20 e capite che 20 bambini sui 5 ai 6 anni è proprio, se non ti diverti allora vuol dire qualcosa non quadra e io ripeto mi sto divertendo molto, anche stasera mi sono divertito tantissimo, ecco insomma questa è la mia realtà. Allora grazie mille Maurizio Bognoli per essere venuto questa sera a trovarci, grazie. Io ringrazio voi e chiedo nel limite del possibile se potete magari seguire questo sport del calcio non vedente perché abbiamo bisogno di visibilità perché è una cosa che è incredibile però purtroppo è anche delle problematiche notevole visto appunto il problema che porta alla siccità. Allora speriamo che questa cosa accenda una fiammella anche nei nostri telespettatori.